ciao ragazze e bambine cosa possiamo fare oggi mi è venuta una gran fame venite con me venite con me venite con me guardate un po cosa ha portato quando si va al ristorante cosa ti porta al cameriere il menù ma oggi siccome noi siamo delle ballerine dei ballerini facciamo il menù della ballerina cosa ci sarà nel menù della ballerina per incominciare l'antipasto un po' di via Don't ask me for much You're my fantasy girl You know what I'm into My fantasy girl I need your touch Come on Come on, come on Girl, what I need She knows it And she's gonna give it to me She can read what I'm thinking She turns on her chemistry You're my fantasy girl There when I need you My fantasy girl Don't ask me for much You're my fantasy girl You know what I'm into My fantasy girl I need your touch Come on Oh, fantasy girl Oh, fantasy girl Used to be Used to be All in my mind Never thought There'd be such a girl For me Now I find You're here Rocking my world My reality girl My reality girl You're there when I need you My reality girl Don't ask me for much My reality girl You know what I'm into My reality girl I need your touch My reality girl I need your touch You're there when I need you My reality girl Don't ask me for much My reality girl You know what I'm into My reality girl I need your touch My reality girl Fare dei movimenti liberi Per terminare di scaldare il corpo Molto ampi Molto grandi Se avete spazio Approfittatele E passiamo quindi Agli esercizi Sì Il primo piatto Ok? Ok? All through the night You're my fantasy girl There when I need you My fantasy girl Don't ask me for much You're my fantasy girl You know what I'm into My fantasy girl I need your touch Come on Attenzione Questa posizione Si chiama Prima Non è molto semplice Dobbiamo trovare Le peligro Rifacciamo le stesse Ma leggi Che abbiamo fatto prima Nella posizione Per terminare Per terminare Your my fantasy girl There when I need you My fantasy girl Don't ask me for much You're my fantasy girl You know what I'm into My fantasy girl I need your touch Come on Grazie a tutti 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 Grazie a tutti